L'ambito BR1 ha organizzato una riunione interistituzionale per discutere la nuova proposta del programma antiviolenza da inviare alla Regione entro il 18 ottobre. L'incontro ha visto la partecipazione attiva di vari enti e associazioni, tra cui il Consorzio BR1 e la Rete Territoriale dei Centri Antiviolenza Crisalide. Io donna e ricomincio da me. L'obiettivo principale del programma è rafforzare la rete antiviolenza e promuovere un approccio sinergico e inclusivo durante la riunione sono state presentate diverse proposte che il Consorzio sia impegnato a vagliare per garantire la loro rilevanza ed efficacia. Il successo dell'incontro ha portato alla decisione di convocare un nuovo appuntamento per l'inizio di dicembre dove si discuteranno i protocolli operativi del programma. L'intero processo è visto come un passo avanti significativo nella gestione delle emergenze sanitarie legate alla violenza e alla protezione dei diritti delle vittime.